Benvenuti nello spazio informazione di Seila TV, buona serata a tutti voi, iniziamo con il sommario con le notizie più importanti della giornata. Presezzo, scontro frontale tra un'auto e un tir sull'asse interurbano, l'automobilista muore tra le fiamme. La protesta degli agricoltori arriva nella Bergamasca, a Cologno inizia un presidio stabile. Con sei figli in una casa comunale dichiarata in salubre, ma il comune di Bergamo non assegna nuovo alloggio. Curno, cittadini e comune vogliono cambiare il progetto del raddoppio ferroviario. Lunedì mattina una protesta. Orio al Serio si amplia l'anello ciclopedonale attorno all'aeroporto, 11 chilometri che si collegano al parco del Serio. Purtroppo dovremo aprire il telegiornale con notizia tragica. Un tragico incidente questa mattina sull'asse interurbano nel tratto di strada tra i comuni di Mapello, Ponte San Pietro e Presezzo. Un uomo è morto carbonizzato in seguito ad un violento scontro frontale tra l'auto su cui viaggiava e un camion. Gli inquirenti stanno ancora effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e anche per risalire all'identità della vittima. Le fiamme divampate dopo l'impatto rendono infatti molto complicato ogni rilievo. Secondo le prime ricostruzioni pare che l'auto stesse procedendo in direzione Bergamo, quando avrebbe invaso la corsia opposta sulla quale viaggiava il camion. Dopo lo scontro l'auto è carambolata su se stessa e ha preso fuoco. Sul posto sono intervenute l'automedica e l'ambulanza, i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e Zogno, oltre alla polizia stradale di Treviglio. L'asse interurbano è stato chiuso tra Bonate e Mapello e la strada momentaneamente transennata dai tecnici dell'ANAS per permettere i rilievi con gravi ripercussioni di traffico sulle strade urbane di Interland e provincia. Traffico peraltro che continua, siamo in serata insomma e ancora le ripercussioni di questo incidente sono in tutta la provincia. Ancora cronaca è stata soccorsa in codice rosso, indice di massima gravità, una donna di 56 anni che nel pomeriggio di oggi è rimasta schiacciata da un grosso tronco di un albero in via Odiago a Pontida. È successo in una zona boschiva del paese, dell'isola, ma la dinamica esatta è ancora da chiarire. Sul posto sono intervenute ambulanza automedica ed elisoccorso. La donna ha riportato un trauma al torace, all'addome e al bacino ed è stata trasportata all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Ora una storia particolare. Siamo in Kenya, a Malindi, un'avvocatessa con cinque cani, randaggi raccolti dalla strada, uno di loro morsica una mano e una gamba a un'altra donna che cercava di proteggere il suo cagnolino. Finita malissimo e finita in tribunale. Prima causa vinta dall'avvocatessa bergamasca a ritaduzioni, accusata penalmente e civilmente da Catherine Gelmi, manager di un resort di Flavio Briatore per le ferite riportate da quest'ultima provocate dai morsi dei cani della legale. Il fatto è accaduto il 16 aprile a Malindi, in Kenya. L'aduzioni era in vacanza in un residence dove possiede una casa e dove ha in custodia cinque cani accolti randaggi dalla strada. Un suo collaboratore ha aperto il cancello mentre in quel momento usciva dal resort di Briatore la manager in compagnia del suo cagnolino che sarebbe stato aggredito dai cani della donna bergamasca. Per difenderlo la Gelmi ne avrebbe tirato uno per la coda, finendo per essere morsa alla mano e ad una gamba. Passaporto ritirato in seguito alla doppia denuncia, fino alla sentenza del tribunale di Malindi. Il fatto non sussiste. Ora l'avvocatessa di Verdello, che ha presentato due controdenunce per estorsione e una presunta aggressione subita dall'avvocato della controparte, dovrà difendersi anche dalla richiesta di risarcimento. Non oltre i 3.000 euro ha deciso la corte, mentre la Gelmi ne ha chiesti 17.000. I carabinieri di Seriate hanno arrestato un uomo di 35 anni, residente a Gorle, accusato di maltrattamenti in famiglia e distorsione ai danni del padre. Il 35enne da 5 anni minacciava il padre per avere soldi da spendere per l'acquisto di droga. Lo scorso 17 gennaio aveva addirittura tentato di accoltellarlo, dopo che l'estate scorsa lo aveva colpito con una mazza di legno ferendolo. A seguito dei numerosi interventi, i carabinieri hanno richiesto alla Procura della Repubblica la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del 35enne, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. Ancora i carabinieri, i carabinieri di Zogno in questo caso, che hanno effettuato i controlli straordinari notturni per la lotta allo spaccio di droga nel comune di Terno d'Isola. Tre le patuglie impiegate, oltre all'elicottero che si è alzato da Orio al Serio. Nel corso dell'operazione sono state controllate 20 persone e 15 automobili. Due persone sono state denunciate, si tratta di due giovani extracomunitari di 21 e 23 anni, trovati in possesso di circa 50 pillole di farmaco stupefacente e 15 grammi di hashish. I carabinieri hanno anche sequestrato 300 euro in contanti perché facilmente riconducibili ad attività di spaccio. Protesta degli agricoltori che arriva in Italia dopo quello che è successo in Germania e un po' in tutta Europa. A Bergamo, nella Bergamasca, siamo a Colonio al Serio. Era nell'aria e ora le proteste degli agricoltori scattate ormai diverse settimane fa in Germania sono arrivate anche nella Bergamasca, a Colonio al Serio, dove l'agricoltura è di casa. La protesta, organizzata dal coordinamento nazionale riscatto agricolo, è nata per difendere l'agricoltura locale, per denunciare prodotti sottopagati e ricavi abbondantemente inferiore ai costi di produzione. Chiediamo, hanno spiegato i manifestanti, una profonda, vera e immediata abrogazione di tutte le norme nazionali ed europee che obbligano e ingiustamente comparano l'agricoltura ad altri settori non produttori di cibo ed errate alimentari. Sono sempre cresciuto con mio nonno che ha sempre fatto questo lavoro e quando ho iniziato a 16-17 anni ho iniziato a lavorare, però ho aperto anche una piccola azienda agricola, però sono arrivato al punto di smettere perché non ne vale la pena, i costi sono troppo alti, troppe tassi, mi dispiace perché è la passione che ci fa fare il nostro lavoro. Sono Nicola, ho quasi 23 anni, sono figlio di allevatori, sono finito a fare il giardiniere perché non si può più campare con questo lavoro e quello che stanno facendo è un atto di guerra e la guerra si risponde con la guerra. Le proteste sono partite dalla Germania contro le leggi europee che danneggerebbero gli imprenditori dell'agricoltura, i quali chiedono anche detassazione e una stretta alle importazioni, soprattutto da paesi che non devono rispettare certe stringenti norme che vigono in Europa. Il presidio si è costituito autonomamente oggi di fronte al cantiere mai concluso delle piscine di Cologna Alserio e ci rimarrà inizialmente qualche giorno, ma si presume possa stabilirsi ad oltranza. Alla ora delle case comunali di via Moroni, per ATS insalubre la situazione, per il comune di Bergamo ci sono sicuramente altre priorità. Ahmed vive nelle case popolari di via Moroni da più di tre anni. In tutto in famiglia sono nove, il più piccolo di due anni, la più anziana lettata di 97. Più di un anno fa l'abitazione è stata dichiarata insalubre da ATS a causa della muffa, tanto che in famiglia i problemi respiratori sono all'ordine del giorno. Nonostante il rituale bimensile di lavare tutti i muri con la candeggina, al momento la 97enne matriarca della famiglia, si trova in ospedale a causa dell'asma, che provoca problemi anche ai sei bambini ospiti dell'appartamento. Una famiglia costretta ad abitare in condizioni assolutamente antigieniche in un alloggio popolare di proprietà del comune di Bergamo. Condizioni antigieniche che sono state appurate da un intervento dell'autorità sanitaria già da un anno fa e alla richiesta di provvedere al risanamento di questo alloggio, un cambio alloggio, il comune non ha dato risposte. Dicono che ci sono situazioni più peggio di queste, però io non lo vedo. Una situazione più peggio di la nostra è che c'è la mamma anziana che ha 87 anni, che è fragile, che adesso è in cura all'ospedale per questi problemi qua. più ce l'ho anche la moglie che ha l'asma e i due fili. Sento sempre male e preoccupato a tutto per queste cose qua. Il comune ha negato la possibilità di un cambio alloggio per la famiglia di Ahmed, la cui situazione, secondo l'Unione Inquilini, è tutt'altro che unica. È una situazione abbastanza diffusa, le mancate manutenzioni del patrimonio sono all'ordine del giorno. A fronte di questo, nella città di Bergamo, abbiamo 750 alloggi vuoti non assegnabili per mancata di manutenzione, di ristrutturazione. Se gli alloggi non sono a norma, non possono essere assegnati. Diversa l'opinione del comune di Bergamo, con l'assessore Marchesi che ha spiegato come in generale, in questa fase ancora di passaggio da Aler a MMSPA, la situazione delle case popolari sia molto buona. Lunedì al via il cantiere per il raddoppio ferroviario. Dividerà anche Curno in due parti e Curno protesterà proprio lunedì mattina. Lunedì 5 febbraio la stazione di Ponte San Pietro chiude perché parte il cantiere per il raddoppio della linea ferroviaria Bergamo-Montello. Un intervento che causerà disagi ai pendolari ma anche al traffico che da Ponte porta in città perché autobus e sostitutivi scenderanno in strada per portare a scuola gli studenti. I tempi stringono e i bergamaschi tremano e si arrabbiano pure, come a Curno dove cittadini e amministrazione non demordono. Il progetto intero di ragione RFI prevede infatti che vengano chiusi due passaggi a livello sul territorio comunale. Uno in via Fermi ma che non causerà disagi e uno su via Roma nel cuore del paese. Barriere Fono assorbenti alte 7 metri lunghe 3-4 chilometri spaccheranno in due paese collegato solo da un piccolo tunnel ciclopedonale. La lotta per cambiare il progetto prosegue anche se i margini di ottenere qualcosa sono ridotti al lumicino. Ad ora non si conoscono i tempi di inizio lavori a Curno e la cosa spaventa. I tempi che vanno dalla visione del progetto esecutivo alla cantierizzazione rischiano poi di essere molto brevi per evidentemente approfondire tutti gli aspetti e poi ovviamente gestirli. I cittadini ribadiscono che l'idea del treno è buona e giusta ma non con queste modalità. Mancano fermate sia a Curno che a Mozzo e ciò vuol dire che i cittadini non potranno utilizzare il treno con facilità, dovendo affidarsi all'automobile senza quindi alleggerire il traffico su gomma. Con il comune intero però c'è sinergia per provare a cambiare qualcosa con il tema viabilistico ancora al centro. Il nostro comitato ha chiesto delle risposte in merito a un piano viabilistico alternativo. Queste risposte non arrivano, le risposte sono state poste ai veri decisori di quest'opera, quindi la regione Lombardia che è il committente e RFI che è incaricato di realizzare i lavori. Intanto il comitato ha organizzato per lunedì mattina alle 7.30 un sit-in in zona Crocette per manifestare il proprio disappunto contro l'intero progetto che causa anche nei tre anni di cantiere gravissimi disagi di traffico ai bergamaschi. Commercio e rete antiviolenza insieme, un patto per le donne. La violenza di genere, fenomeno culturale e sociale in continua crescita, interessa da vicino tutti noi. Sensibilizzare e fare educazione sul tema è dunque fondamentale. Creare consapevolezza è il primo passo verso il cambiamento. L'ente bilaterale territoriale del terzario e l'ente bilaterale del turismo di Bergamo, in collaborazione con le reti antiviolenza e i centri antiviolenza del territorio, hanno presentato oggi, presso la sala conferenze di Ascom Confcommercio Bergamo, il progetto per donne in difficoltà e vittime di violenza. L'obiettivo? Favorire le persone in difficoltà creando una vera e propria rete di supporto che coinvolga non soltanto chi specificamente si occupa di violenza di genere, ma anche i pubblici esercizi. Abbiamo individuato una modalità per aiutare queste persone con tre modi. Uno è un adesivo nei bagni delle signore in tutti i pubblici esercizi di Bergamo e i ristoranti, in modo tale che sia un ambito tendenzialmente in cui sono sole, possano con un QR code e il telefonino essere spostate sul sito dei centri antiviolenza per capire che cosa fare e se sono in difficoltà. Un altro passaggio è un vademecum per gli esercenti che possano riconoscere con determinati atteggiamenti particolari delle signore se sono in difficoltà. Questo non vuol dire che devono fare i poliziotti, ma possano individuare comunque delle situazioni gravi come è già successo in passato. Riconoscere la violenza sul nascere è fondamentale per interrompere la spirale dalla quale spesso diventa poi difficile risalire. Il centro antiviolenza ha proprio questo obiettivo, dare l'opportunità alle donne di fermarsi un attimo, riflettere, portare fuori il vissuto. Dinamiche di potere, manipolazioni, persecuzioni sono gli atti sommersi che si collocano nel quadro della violenza di genere, campanelli d'allarme che non andrebbero mai ignorati. La violenza fisica viene agita quasi al 99% dei casi in un secondo momento, cioè nel momento in cui magari la donna comincia a ribellarsi a determinate decisioni che gli vengono imposte e allora il partner violente ha bisogno di rimettere in chiaro chi comanda. Il progetto vuole inoltre mettere a disposizione delle donne vittime di violenza dei corsi di formazione che possano accompagnarle in un percorso di crescita personale ed agevolarne l'ingresso nel mondo del lavoro. Spazio per qualche consiglio per gli acquisti, ci ritroveremo con le notizie sulla ciclo pedonale. Ben ritrovati con le notizie di Seila TV News. Per gli amanti della bicicletta, ben 11 chilometri ciclo pedonale intorno all'aeroporto. Andare in aeroporto in bicicletta, per turismo o per chi nello scalo ci lavora, è sempre più una realtà. Il Caravaggio, premiato nel 2021 come primo aeroporto bike friendly in Europa dalla Federazione Europea dei Ciclisti, anche grazie alla presenza della Bike Room, estende le vie ciclabili che circondano il perimetro aeroportuale, inaugurando il nuovo tratto di circa due chilometri nell'area nord-est, in congiunzione con la ciclovia del Parco del Serio. Il giro d'anello di 11 chilometri è oggi completato al 60%, ma entro la fine dell'anno si prevede di iniziare il cantiere di riqualificazione dell'ex parcheggio dell'Aeroclub Taramelli, che comporterà un ampio intervento di depavimentazione, la sostituzione con un prato fiorito, alberatura e un ulteriore tratto di un chilometro e mezzo di pista ciclo pedonale, consentendo la connessione con le ciclovie esistenti nei comuni di Seriate e Oriol Serio. Sono circa 10 milioni complessivi di interventi che riguarderanno tratti che verranno realizzati gradualmente, che si inseriscono anche a quelli che già in parte sono stati realizzati. In sostanza l'obiettivo è quello di avere la ciclabilità dell'intera pista aeroportuale. Il progetto rientra nella piano di sviluppo aeroportuale e ha l'obiettivo di realizzare un'infrastruttura verde che crei connessione sul territorio e incentivi la multimodalità dei trasporti. Questo vuol dire provare anche ad andare ad intercettare quel turismo diverso rispetto a quello che attualmente utilizza l'aeroporto, cioè un turismo che possa vivere la nostra provincia e il nostro territorio anche attraverso la mobilità dolce. E ovviamente bisogna partire da quella che è la porta più importante di Bergamo, oggi rappresentata dal nostro aeroporto. L'anello aeroportuale, insieme al progetto My Castle Street, cofinanziato da Sacbo con il supporto di Regione Lombardia e provincia di Bergamo per creare una connessione ciclopedonale tra i castelli di Malpaga, Cavernago e Costa di Mezzate, si integra nella ciclovia Bergamo-Brescia e si innesterà nel percorso di collegamento ciclabile in via di realizzazione tra le città di Monaco di Baviera e di Milano. Due notizie dallo sport, partita Atalanta Under-23 Renate, valida per il 23esimo turno del Girone A di Serie C, che si sarebbe dovuta disputare ieri sera a Caravaggio, è stata rinviata per nebbia. Non è ancora stata fissata la data del recupero, ma l'Atalanta ha comunicato che i tagliandi acquistati attraverso il circuito Viva Ticket per assistere alla gara saranno validi per la gara di recupero. Data e orario di inizio verranno comunicati successivamente. In alternativa, a partire dal 10 di giovedì 1 sino alle 19 di venerdì 9 febbraio, sarà possibile ottenere il rimborso del prezzo del biglietto seguendo le procedure indicate sul sito di Viva Ticket nella sezione rimborsi. Vediamo ora della Goggia, buona la prestazione, considerato la specialità, cioè il gigante, dopo un weekend di gare veloci disputato a Cortina in cui è mancata la vittoria, Sofia Goggia si è riscattata appunto nel gigante. Oggi la campionessa di Astino ha raccolto un ottimo quinto posto sulla pista del Plan de Corone, risultato che conferma il suo ritorno ai massimi livelli nella specialità. Solo sfiorato il podio che era distante una manciata di centesimi. La vittoria, manco a dirlo, è andata alla Svizzera Lara Gut. Allora adesso il meteo con 3B Meteo, vediamo quello che succederà nei cieli di Bergamo. Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di 3B Meteo. Partiamo oggi con questa bella immagine, ci fa vedere l'Italia quasi senza nuvole, ma guardate questa macchia grigia, è la nebbia che da giorni insiste in pianura padana, nebbia dato che nasconde anche molto smog e sarà protagonista anche nelle prossime giornate. E così per questo mercodì prevediamo sulla bassa pianura padana, ancora nebbie e foschie, specie la notte e al mattino. Nel resto della regione invece situazione discreta, non mancheranno ampie zone di sereno e con clima diurno anche abbastanza mite. Bergamo e provincia, poco da segnalare, quindi temperatura fino a 9-10 gradi, a primo mattino però fa freddo e ci copriamo sempre bene. Giornata di giovedì, ancora all'insegna del bel tempo con ampie zone di sereno, addirittura temperature due diurni in leggero aumento, toccheremo anche i 12-13 gradi. Cosa accadrà nei giorni successivi? Niente, non è prevista nessuna perturbazione, per un po' tempo bello e con temperature bene o male stazionarie. Per tutti gli dettagli sulle vostre località e sapere davvero per quanto andremo avanti così, consultate l'app di Trevi Meteo. E per le vostre segnalazioni scrivete a redazione chioccio alla sailatv.tv. È veramente tutto, buona serata.